3, 2, 1, azione! Una volta veramente mi sono divertito parecchio l'unica cosa che non so perché solo a me mi hanno fatto fare una scena di lunghezza, diciamo, di corridoio quindi già sono sudato 3 minuti di girato già sono sudato è lungo che mi favo dialetto è vero che io ci capisco? sono vecchia ma non so fessa ah come vi vedo bene compra facciate la spesa online